Musica Musica Con oggi iniziamo una serie di esercitazioni a supporto dei corsi di fondamenti informatica 1 e 2 e del corso di elementi di informatica. Queste esercitazioni dovranno aiutarvi a mettere in pratica i concetti teorici che sono stati illustrati all'interno dei corsi. Nelle esercitazioni noi svilupperemo, io e in questo momento l'ingegner Laura Farinetti che è alla mia destra, svilupperemo, dicevo, un insieme di esercizi e ne proporremo anche una serie, esercizi proposti che vi invitiamo a risolvere e che noi poi nella quinta esercitazione risolveremo insieme a voi. Ogni esercitazione conterrà anche una parte preliminare di riassunto degli aspetti metodologici e concettuali che stanno alla base degli esercizi che andremo a sviluppare. In particolare poi le esercitazioni saranno articolate in due gruppi. Il primo gruppo composto di circa sei esercitazioni riguarderà tutti gli aspetti che sono stati trattati nei corsi ad esclusione del linguaggio di programmazione, quindi della programmazione e dello sviluppo di piccoli programmi. La seconda parte, che sarà composta anch'essa di cinque o sei esercitazioni, vedrà invece lo sviluppo di esercizi per aiutarvi a mettere in pratica i rudimenti di programmazione che avete avuto modo di apprendere durante le lezioni. Vediamo quindi di iniziare questa prima esercitazione che tratterrà sostanzialmente della rappresentazione in, mediante il sistema binario, dei numeri. Abbiamo visto nelle lezioni che un tema centrale è la rappresentazione dell'informazione in forma digitale all'interno degli elaboratori e in particolare della rappresentazione dell'informazione numerica e oggi ci soffermeremo in modo particolare su questo. Quindi quali saranno i temi che avremo modo di trattare? Li vedete adesso sullo schermo in questo cartello. In particolare tratteremo, come ho già avuto modo di dire, della rappresentazione in sistema binario dei numeri e quindi delle problematiche che attengono alla conversione di base, cioè i metodi che permettono di tradurre un numero nell'usuale sistema decimale nella corrispondente rappresentazione in binario e viceversa. Vedremo poi di svolgere alcuni esercizi che riguardano l'applicazione delle regole per le operazioni aritmetiche tra numeri binari e infine ci soffermeremo sulle possibilità, sull'insieme dei valori che possono essere rappresentati all'interno di un elaboratore dato un numero fisso di bit, cioè l'intervallo di rappresentazione. Bene, vediamo adesso di soffermarci e di riprendere alcuni dei concetti fondamentali che avevamo già a suo tempo illustrato. Volevo soltanto ricordarvi che nelle ultime esercitazioni svilupperemo insieme a voi, proporremo una serie di testi che sono stati sottoposti qui al Politecnico di Torino agli esami e quindi così avrete modo di cimentarvi anche su un possibile testo di esame. Ritorniamo agli aspetti più concettuali e ricordiamoci, come vedete anche adesso in questo cartello, ricordiamoci cioè che l'informazione all'interno di un elaboratore, come ben dovreste oramai sapere, è sostanzialmente codificata in termini di bit, termine che deriva da cifra binaria e quindi simbolicamente in 0 a 1 e poi ricordiamoci che questi bit vengono aggregati in entità più significative, in entità elementari di memorizzazione che sono per l'appunto i byte. Il byte è, come si vede anche in questo lucido, un aggregato di 8 bit, per convenzione noi rappresenteremo sempre il bit meno significativo a destra e il bit più significativo a sinistra. Vediamo adesso di ricordarci come è possibile codificare l'informazione numerica. A suo tempo a lezione abbiamo visto come è possibile codificare attraverso ad esempio il codice ASCII l'informazione carattere e abbiamo detto che un carattere è codificato su un byte, vediamo adesso di ricordarci come si potevano rappresentare i numeri. In particolare ci soffermeremo inizialmente in questa esercitazione sulla rappresentazione dei numeri assoluti, cioè quelli che noi comunemente diciamo essere senza segno, numeri interi per più. Bene, abbiamo detto a lezione che adopereremo il sistema posizionale con base uguale a 2. In particolare un sistema posizionale è rappresentato, è definito, caratterizzato come qui indicato da un numero intero che è la base e da un insieme di cifre. Nel nostro usuale operare adoperiamo il sistema decimale in cui la base è per l'appunto 10 e abbiamo le cifre che vanno da 0 a 9 e che sono, non a caso, anch'esse 10. La caratteristica di un sistema posizionale, la ricordiamo, è quella che data un numero, una sequenza di cifre, ad ogni cifra è associata a una ben precisa e definita peso corrispondente alla posizione ed in particolare presa una cifra nella posizione J, ad essa è associato un peso corrispondente al valore della base elevato a J. Questo vale per qualunque sistema posizionale indipendentemente dalla base, quindi vale per il sistema decimale, per il sistema binario e così via. In un sistema posizionale i numeri vengono rappresentati dall'insieme di cifre, quindi da un insieme di simboli ordinati, ciascuno dei quali è costituito da una cifra, cifra che sarà compresa tra 0 e R-1 come abbiamo visto poc'anzi in precedenza. Com'è che possiamo associare il valore di un numero a questa sequenza? Lo possiamo fare attraverso la formula che adesso vedete indicata. In questo cartello è mostrato come il valore vero di un numero sia derivabile dalla sequenza di cifre che lo rappresentano attraverso appunto questa formula che è la base concettuale, rappresenta la base concettuale dei sistemi posizionali. Ovviamente nel nostro caso i sistemi posizionali che adopereremo o cui faremo riferimento sono essenzialmente due, quelli che utilizziamo tutti i giorni e cioè quelli che hanno come base 10, il sistema degli umani e quelli invece che hanno base 2, i sistemi utilizzati degli elaboratori. Quindi un generico numero rappresentato all'interno di un elaboratore in base 2 sarà costituito da un insieme di cifre ad esempio 1, 0, 1, 0, 1, a ciascuna di queste cifre è associato un peso che dipende per l'appunto dalla posizione della cifra all'interno del numero. Nel caso specifico questo avrà peso 2 elevato 0, questo avrà peso 2 elevato 1 e così via questo avrà peso 2 elevato 2 e attraverso la formuletta che abbiamo poc'anzi visto possiamo risalire dalla rappresentazione dalla sequenza di bit al valore del numero stesso. Detto questo il problema che noi dobbiamo sostanzialmente affrontare su cui svilupperemo i primi esercizi è quello della conversione di base. Quali sono i problemi? Il problema è descritto in questo cartello ed in particolare noi dovremo in qualche modo capire come è possibile passare da una rappresentazione nel sistema binario all'equivalente decimale cioè dal mondo dei calcolatori al mondo degli umani e viceversa come possiamo passare dal mondo degli umani al mondo dei calcolatori cioè come possiamo dato un numero intero per ora assoluto vedere di codificarlo all'interno della memoria dei registri del nostro elaboratore. Vi ricordo soltanto per semplicità qual è l'algoritmo di conversione lo vedete riassunto in questo cartello l'algoritmo di conversione di base che ci permette di passare dalla base 10 alla base 2 algoritmo che viene normalmente identificato con il termine di divisioni successive e che consta questo esempio è già stato riportato a lezione nel prendere il numero decimale di partenza nel dividerlo per la base di arrivo che in questo caso è 2 di considerare i resti che così si ottengono vedete che qui per esempio faccio 25 diviso 2 che fa 12 con il resto di 1 poi il quoziente così ottenuto viene iterativamente diviso ancora per 2 e 12 diviso 2 fa 6 con il resto di 0 alla fine ottengo fin qua alla fine quando ottengo un quoziente pari a 0 ottengo una sequenza di resti che opportunamente eletti a partire dall'ultimo generato quindi l'ultimo generato è quello che va messo nella posizione più significativa a sinistra mi determinano il numero totale la rappresentazione meglio nel sistema in base 2 del numero di partenza voglio solo farvi notare lo vedremo tra poco in un esercizio che questa metodologia è peraltro la stessa che può essere adottato per passare da una base 10 ad una qualunque altra base ad esempio 3 o 4 o 5 a questo punto vediamo di svolgere qualche esercizio io vi suggerirei come metodologia di leggere l'esercizio che io proporrò di fermare la cassetta di rifletterci un momento di provare a risolverlo dopodiché noi lo risolveremo insieme ecco il primo esercizio che vi proponiamo è quello di lo vedete scritto in questo momento è quello di convertire il numero dicimale 524 in base 3 vediamo di risolvere questo esercizio alla lavagna e mi aiuterà in questa attività Laura a cui cedo volentieri la parola il problema in questo caso è convertire un numero decimale che qui scrivo 524 in un numero che a questo momento non conosco e quindi indico con un punto interrogativo nella base 3 abbiamo prima visto un esempio di questa conversione in base 2 concettualmente non c'è nessuna differenza utilizziamo quindi anche qui il metodo delle divisioni successive scriviamo quindi il numero di partenza 524 e lo dividiamo ripetutamente per 3 avendo l'accortezza di scrivere il quoziente in basso e il resto di fianco quindi abbiamo che 524 diviso 3 fa 174 con il resto 2 proseguiamo 174 diviso 3 fa 58 e il resto è 0 58 diviso 3 fa 19 e il resto è 1 19 diviso 3 fa 6 con il resto 1 6 diviso 3 fa 2 e il resto è 0 infine 2 diviso 3 è 0 la quoziente è 0 e il resto è 2 a questo punto possiamo direttamente leggere il numero convertito in base 3 dobbiamo solo avere l'accortezza di ricordare che la cifra meno significativa corrisponde al resto che è stato trovato per ultimo possiamo quindi scrivere che 524 in base 10 è uguale a 2 0 1 1 0 2 in base 3 e questo è il risultato dell'esercizio ecco noi potremmo a questo punto chiederci se è corretto il risultato per fare questo dovremmo verificare che la sequenza che avete poc'anzi visto cioè 2 0 1 1 0 2 sia corrispondente in base 3 al numero di partenza come possiamo verificare se tutto ciò è corretto bene possiamo moltiplicare ciascuna cifra del risultato per il peso corrispondente ricordando che questa è la base 3 quindi questo numero equivale a scrivere la somma di alcuni prodotti 2 per 3 elevato a 0 più 1 per 3 elevato al quadrato più 1 per 3 elevato al cubo più ancora più 2 per 3 elevato alla quinta facendo facendo tutti i passaggi si ottiene potete provare voi stessi il numero 524 che è il numero di partenza ecco questo è il primo esercizio che abbiamo risolto in generale noi avremo a che fare più propriamente con la base 2 non cambia nulla volevo solo sottoporvi un brevissimo esercizio in parte peraltro già risolto per vedere come si passa da una sequenza in base 2 ad una sequenza in base 10 bene supponiamo di avere un qualunque numero ad esempio questo associamo adesso i pesi 2 elevato a 0 2 elevato a 1 2 elevato a 2 e 2 elevato a 3 dopodiché il valore del numero risulterà essere dato da 1 per 2 elevato a 3 più 0 per 2 elevato a 2 più 1 per 2 elevato a 1 più 1 per 2 elevato a 0 e con semplici passaggi vedremo che questo è 8 più 0 più 2 più 1 e ancora una volta con un semplice calcolo aritmetico otteniamo e 2 più 1 fa 10 questo viene 11 in base 10 vediamo a questo punto di risolvere un successivo esercizio che adesso vi propongo è quello di convertire lo vedete adesso sul cartello il numero 524 il numero di prima non più in base 3 ma in base 2 e anche nelle basi 8 e nelle basi 16 vediamo prima di risolvere l'esercizio come si converte 524 in base 2 e poi successivamente di convertirlo nella base 8 e nella base 16 lascio la parola a Laura il procedimento è molto simile al caso precedente semplicemente a questo punto ricordiamo che adesso dobbiamo tradurre il numero 524 in base 10 in un numero che non conosciamo in base 2 dobbiamo applicare sempre il metodo delle divisioni successive ma questa volta dividendo il numero 524 ripetutamente per 2 abbiamo quindi 524 diviso 2 262 e il resto è 0 262 diviso 2 fa 131 e il resto è nuovamente 0 131 diviso 2 è 65 con il resto 1 65 diviso 2 fa 32 con il resto 1 32 diviso 2 fa 16 purtroppo è molto lungo da fare il procedimento il resto è 0 16 diviso 2 fa 8 e il resto è 0 8 diviso 2 fa 4 e il resto continua a essere 0 4 diviso 2 fa 2 sempre con resto 0 2 diviso 2 fa 1 con resto 0 e infine abbiamo un ultimo resto 1 e il quoziente è 0 anche in questo caso dobbiamo ricordarci di leggere il numero risultante a partire dal bit qui in questo caso possiamo chiamarlo bit meno significativo e abbiamo quindi il numero 524 in base 10 tradotto nel numero 1 poi c'è una sequenza di 5 0 2 1 e ancora 0 0 in base 2 e questa è la prima parte dell'esercizio la seconda parte dell'esercizio può essere svolta in due modi ne accenno ad uno che è il più semplice il più ovvio il più immediato mentre poi noi svilupperemo la seconda parte l'esercizio chiedeva di convertire il numero 524 nel corrispondente in base 8 e in base 16 bene a questo punto si può applicare l'algoritmo che abbiamo visto di divisioni successive dividendo 524 e i quozienti che si derivano per 8 o per 16 questo è il primo metodo lo lasciamo a voi avete visto anche come può essere fatta la verifica e quindi vi suggerisco di cimentarvi in questo esercizio tuttavia può anche essere utilizzato un algoritmo diverso che si basa su una considerazione fondamentale la considerazione fondamentale è che 8 e 16 non sono due basi qualunque bensì sono potenze di 2 in particolare 8 e 2 elevato alla terza e 16 e 2 elevato alla quarta ebbene sfruttando questo concetto possiamo sviluppare gli esercizi in modo assai più veloce ve lo illustra Laura cominciamo con la base 8 ricordiamo come già stato detto in precedenza un attimo fa che 8 è uguale 2 alla terza possiamo quindi passare direttamente dalla base 2 alla base 8 riscrivendo il numero in base 2 cosa che sto rifacendo 8 5 0 0 1 1 1 0 0 e raggruppando i bit le cifre a 3 a 3 proprio perché 8 e 2 alla terza avendo l'accortezza di partire sempre dalla cifra meno significativa in questo modo ottengo quindi un nu e poi interpreto ciascuna di queste triplette di bit come un numero che sarà in base 8 questo è un numero 4 questo è un numero 1 questo è 0 e questo è 1 abbiamo quindi convertito il numero 524 il numero di partenza in base 10 nel suo corrispondente ottale che sarà 1 0 1 4 in base 8 possiamo fare la stessa cosa per la base 16 ricordando che 16 è 2 alla quarta riscriviamo il numero di partenza ancora una volta 1 0 0 0 0 1 1 0 0 e questa volta raggruppiamo i bit a 4 a 4 sempre naturalmente a partire dalla posizione meno significativa e anche in questo caso interpretiamo questi gruppi di 4 bit come delle cifre questa volta esadecimali in questo caso avremo la cifresa decimale c che ricordo coincide con il numero decimale 12 in questo caso 0 e in questo caso 2 possiamo ancora quindi scrivere che 524 in base 10 è uguale a 2 0 c in base 16 naturalmente questo procedimento può anche essere utilizzato all'inverso nel senso che se voi avete un numero in base 16 in esadecimale e dovete convertirlo in base 2 potete utilizzare lo stesso procedimento ma come dicevo in senso inverso ad esempio se noi avessimo il seguente numero 7 c in base 16 e volessimo tradurlo nell'equivalente in base 2 è sufficiente che ci ricordiamo che ogni cifra esadecimale è rappresentabile con 4 bit quindi avremo 4 bit per questa cifra e 4 bit per quest'altra cifra dopodiché su 4 bit rappresentiamo c che è il valore 12 e pertanto 0 2 non c'entra 0 1 1 questa è la sequenza di bit corrispondente a 12 e corrispondente alla cifra c a sinistra dobbiamo mettere il 7 che è composto da la sequenza 1 1 1 0 rappresentato su 4 bit pertanto la cifra la sequenza il numero in decimale che ci rappresenta il numero di partenza sarà dato da 0 0 1 1 1 1 1 omettendo lo 0 che come noto essendo posto prima della cifra più significativa non ha alcun valore ecco completati questi esercizi vediamo di svolgere qualche altro esercizio su un altro tema assai rilevante le operazioni aritmetiche vediamo di ricordarci quali sono le basi che ci permettono di eseguire le operazioni le abbiamo rappresentate su queste due tabelline che adesso vedete in particolare qui c'è la tabella che rappresenta la somma di 2 bit e sotto la tabella che indica le regole della sottrazione di 2 bit non sto qui a commentarle perché credo che siano ampiamente evidenti a tutti ebbene noi utilizzeremo proprio queste regolette per risolvere gli esercizi che adesso vado ad enunciare il primo esercizio che vi sottopongo è qui indicato e vi richiede di eseguire la somma in base 2 tra questi due numeri vi ricordo soltanto che uno degli aspetti più rilevanti quando si fanno le somme o le sottrazioni è il computo di un eventuale overflow o situazione di tracimazione nel senso che abbiamo visto come all'interno degli elaboratori la lunghezza finita delle celle di memoria o dei registri non permetta di rappresentare qualsivoglia risultato ma in alcuni casi si determina situazioni in cui il risultato di un'operazione ad esempio di una somma non è rappresentabile con il numero di bit su cui contenuti all'interno della cella di memoria o del registro e pertanto ci troviamo in una situazione assai poco piacevole che abbiamo visto viene denominata col termine inglese overflow che potremmo tradurre in italiano con la parola con il termine di tracimazione vediamo adesso di risolvere l'esercizio poc'anzi proposto l'esercizio chiedeva di risolvere una somma in particolare 1 0 1 1 1 in base 2 più il numero 1 0 1 1 in base 2 la possiamo risolvere incolonnando i due termini esattamente come faremo per una somma con la base decimale quindi riscriviamo in colonna i due addendi dopodiché con le regole viste in precedenza posso sommare bit per bit partendo dalla posizione meno significativa quindi 1 più 1 fa 0 col riporto di 1 1 1 1 più 1 più 1 fa 1 col riporto di 1 1 più 1 fa 0 col riporto di 1 1 più 1 fa sempre di nuovo 0 col riporto di 1 1 più 1 0 e riporto l'ultimo numero ancora a sinistra quindi posso scrivere che il risultato di questa somma è 1 0 0 0 1 0 in base 2 naturalmente qui non ho fatto nessuna specifica sul numero di bit che avevo a disposizione per fare questa somma ecco in effetti come sottolineava giustamente Laura se noi avessimo formulato l'esercizio nel seguente modo eseguire la somma tra i due seguenti numeri costituiti da 5 bit esprimendo il risultato anch'esso su 5 bit noi ci saremmo trovati di fronte ad una situazione di overflow perché il risultato che se non vado errato vale 34 esatto vale 34 non è rappresentabile su 5 bit perché i numeri rappresentabili su 5 bit vanno da 0 a 31 e quindi noi ci saremmo trovati in una situazione di overflow cioè nella situazione di non poter rappresentare per l'appunto 34 su 5 bit vediamo adesso di passare ad un altro esercizio che vedete formulato che riguarda la somma in base 16 di quei due numeri in particolare a2 df e 2204 anche in questo caso vediamo di risolvere l'esercizio della lavagna allora i due numeri in particolare erano a2 df in base 16 più 2204 sempre in base 16 nuovamente in colonno i due addendi in modo da poter eseguire la somma ricordando naturalmente quali sono le caratteristiche della numerazione esadecimale quindi posso scrivere che f più 4 in esadecimale fa 13 quindi posso scrivere 3 riportare 1 d più 1 lo scrivo come e 2 più 2 fa 4 e a più 2 fa c il risultato è quindi c 4 e 3 naturalmente sempre ancora in base 16 lascio a voi la verifica della correttezza di quanto Laura ha fatto io credo che l'abbia fatto giusto ma lascio a voi verificare si tratta di tradurre i numeri di partenza in decimale e lo sapete sicuramente fare l'abbiamo visto come esercizio in precedenza vedere il risultato e alla fin fine valutare se quanto abbiamo fatto risulta essere corretto vediamo adesso di sottoporvi un altro esercizio questo riguarda la moltiplicazione non è nella somma nella sottrazione è un'operazione un po' più complessa si tratta di eseguire la moltiplicazione tra due numeri ancora in base 2 che vedete lì rappresentati in particolare 1 0 0 1 e 1 0 vediamo come può essere svolto l'esercizio allora 1 0 0 1 in base 2 moltiplicato 1 0 in base 2 in questo caso possiamo semplificare l'esercizio accorgendosi della caratteristica particolare di uno dei due termini della moltiplicazione in particolare moltiplicare per 10 per 1 0 in base 2 significa moltiplicare 1 0 0 1 in base 2 per 2 che è la base delle operazioni in cui stiamo lavorando in particolare possiamo ricordarci che moltiplicare un numero binario per 2 significa effettuare uno shift del numero stesso a sinistra di una posizione e quindi possiamo eseguire questa moltiplicazione molto facilmente aggiungendo 1 0 al fondo del primo dei due termini e abbiamo quindi il risultato della moltiplicazione che è 1 0 0 1 0 in base 2 questa è una considerazione di carattere generale che va tenuta presente prima di eseguire pedissequamente invece una moltiplicazione come vediamo nell'esercizio cioè quello di capire se il moltiplicatore è coincidente con la base di numerazione e procedere all'aggiunta di uno 0 a destra del moltiplicando come noi tranquillamente faremmo anche nel sistema decimale usuale quando per esempio dovessimo moltiplicare che ne so 133 per 10 a nessuno di noi verrebbe in mente di eseguire l'operazione di moltiplicazione passo passo ma aggiungeremmo tranquillamente uno 0 al fondo di 133 risultando 1330 ecco lo stesso procedimento può essere utilizzato lo stesso ragionamento può essere utilizzato quando si tratta di operare in una qualunque base e quindi si tratta di moltiplicare un numero per la base stessa nel caso specifico per la base 2 vediamo invece come si può procedere alla moltiplicazione tra due numeri binari uno dei quali non è strettamente coincidente il moltiplicatore non è strettamente coincidente con la base e vi propongo il seguente esercizio che consta nell'eseguire la moltiplicazione tra i numeri che adesso vedete per l'appunto sul vostro schermo questa volta dobbiamo moltiplicare questi due numeri uno zero zero scusate uno zero uno 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 in base 2 per uno zero uno uno questa volta non vedo niente di particolare nei miei due termini per cui faccio l'operazione in modo normale come se fosse in base 10 quindi uno zero uno 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 per uno zero uno uno significa fare una serie di spostamenti moltiplicazioni spostate per ciascun termine uno 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 zero uno questa volta moltiplico per zero quindi posso scrivere una serie semplicemente di zeri e poi c'è ancora l'ultimo termine che è uno 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 zero uno facendo la somma di tutti questi risultati parziali ottengo il numero uno 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 zero uno che è appunto il risultato della moltiplicazione che vado a scrivere quindi in questo punto esisterebbe anche un altro modo di fare questa moltiplicazione utilizzando il fatto che moltiplicare un numero per un altro significa soddividerlo in prodotti parziali questa stessa operazione la posso scrivere come uno zero uno 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 in base due moltiplicata per due alla terza più due alla prima più due alla zero a questo punto posso sviluppare separatamente i prodotti parziali e dire che questo è uguale a uno zero uno 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 per due alla terza più uno zero uno 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 per due elevato a uno più uno zero uno 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 per due elevato zero mi sono ricondotta a un caso molto simile alla moltiplicazione precedente per cui posso effettuare questi prodotti parziali come degli shift e sommarli quindi il primo termine sarà uno zero uno 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 shiftato di tre posizioni a sinistra al quale potrò sommare lo stesso termine però shiftato soltanto di una posizione a sinistra l'ho già scritto in colonna per essere facilitata poi nella somma e l'ultimo termine è lo stesso non shiftato facendo la somma ottengo posso già scriverlo voi fate la prova lo stesso numero che avevo ottenuto con il procedimento precedente vediamo adesso di risolvere un successivo esercizio che vedete in questo momento si tratta di eseguire la sottrazione fra due numeri anch'essi in base due sono due numeri assoluti in particolare il primo è 1 0 1 1 1 1 e il secondo numero è 1 0 1 0 noi risolveremo l'esercizio con le usuali regole della sottrazione in base 2 lascio a voi il verificare la correttezza dei risultati passando da questi due numeri in base 2 ai corrispondenti in base 10 e eseguendo in base 10 la sottrazione scriviamo dunque i due numeri che sono 1 0 1 1 1 in base 2 meno 1 0 1 0 in base 2 lì in colonno come per effettuare qualunque tipo qualunque sottrazione in qualunque base 1 0 1 0 e comincio a sottrare a partire naturalmente dal bit meno significativo quindi 1 meno 0 fa 1 1 meno 1 fa 0 1 meno 0 fa 1 0 meno 1 fa 1 e ho bisogno del riporto del bit più significativo ottengo quindi 1 1 0 1 in base 2 come risultato della sottrazione ecco i successivi esercizi richiedono di ricordarci di alcune formulette che ho qui riportato in particolare dati n bit quanti sono le diverse configurazioni rappresentabili con n bit ebbene già sappiamo che se ho n bit sono 2 elevato a n le possibili differenti configurazioni d'altra parte se noi avessimo k oggetti e volessimo sapere quanti bit sono richiesti per codificare i k oggetti noi sappiamo sulla base di quanto abbiamo detto nelle lezioni che il numero di bit risulta essere uguale alla formula che lì vedete ed in particolare all'intero maggiore immediatamente maggiore al logaritmo in base 2 di k sulla base di questo possiamo svolgere i seguenti esercizi in particolare questo esercizio che è molto semplice supposto di avere a disposizione 10 bit qual è il massimo numero rappresentabile lo risolvo io perché non credo valga la pena di scomodare Laura ebbene se abbiamo 10 bit possiamo applicare la formula 2 elevato a 10 c che risulta essere 1024 poiché dobbiamo comprendere lo 0 avremo i numeri che vanno da 0 fino a 1023 la formula è più in genere ale estendibile se abbiamo n bit l'intervallo di rappresentazione per numeri assoluti è 0 2 elevato a n meno 1 il successivo esercizio e poi abbiamo concluso con questa prima esercitazione è quello di calcolare il numero di bit necessari a identificare a classificare 483 soggetti in particolare abbiamo ipotizzato che i 483 siano gli studenti che devono essere codificati all'interno di un elaboratore vogliamo chiederci quanti bit sono necessari abbiamo quindi 483 studenti in particolare dobbiamo rappresentare quindi num codici da 0 a 482 abbiamo quindi bisogno di un numero n tale che 2 alla n sia maggiore di 482 possiamo notare che se noi scegliamo n uguale a 8 2 alla 8 è uguale a 256 e quindi sicuramente n uguale a 8 non è sufficiente proviamo quindi per 2 elevato a 9 2 elevato a 9 fa 512 e quindi questo 512 è maggiore di 483 e quindi sarà possibile con n uguale a 9 rappresentare tutti questi studenti i codici di tutti gli studenti allo stesso risultato potete arrivare facendo il logaritmo in base 2 di 483 e vedete che viene un numero 8 virgola qualche cosa che approssimato porta appunto a 9 ecco concludo questa prima esercitazione con una serie di esercizi che lasciamo a voi risolvere che noi poi in una successiva esercitazione la quinta o la sesta risolveremo li faccio scorrere velocemente voi potete copiarveli e cercare di risolverli il primo esercizio è convertire il numero 267 in base 8 in base 16 il secondo esercizio riguarda quello di vedete lì un numero rappresentato come 253 si tratta di identificare qual è la possibile base o le possibili base che permettono quella rappresentazione l'esercizio successivo è eseguire la sottrazione tra quei due numeri in base 16 l'esercizio 13 riguarda può essere così formulata quale operazione corrisponde spostare a sinistra di tre posizioni il numero 1011 l'esercizio 14 chiede di eseguire quella somma senza necessariamente dover cambiare base bene come ho detto chiudiamo qui questa prima esercitazione gli esercizi proposti li risolveremo nella successiva esercitazione di esercizio di esercizio di esercizio di esercizio Grazie a tutti.